No, no, no Vieni qui, bellezza No, due mori Fermati Dopo sei senza fiato e non c'è più gusto Dai, fermati E non scappare Dai Corri Corri Lasciate che si stanchi Così dopo farà meno resistenza Non scappi, vieni qui, amore Che siamo giovani e belle Non ce la fai più, eh Arriviamo Non ballare Ma attacca No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sono libero andiamo a fare una notata no no si paga il pedaggio per passare buongiorno una gaina buongiorno daniel daniel lester dove c'è la mia villa? quale spilla? quella d'oro a forma di fiore una spilla a forma di fiore? certo la comprai con i miei soldi mai vista non la trovo più dire la verità l'hai renduta senza dirmi niente sogni sogni le spilla di cui parli esiste solo nella tua mente bacata lo dici tu me la ricordo benissimo era una delle poche cose che mi erano rimaste allora cercala cercala vedrai che salterà fuori no non salterà fuori niente perchè tu avevi bisogno di soldi e me l'hai rubata tutto mi hai rubato anche l'ultima cosa che avevo finisci a forza di ubriacarti sei diventata pazza lasciami in casa ti odio ti odio daniel per tutto quello che mi hai fatto ti manderai in galera sei un disgraziato un miserabile un fallito sotto tutti i punti di vista mergaina grazie sei tornata sei un angelo meno male ora finalmente ho le idee più chiare so quello che devo fare adesso me ne vado in città me ne vado a cercare un lavoro visto che mio marito non sa guadagnare un soldo ti farò vedere io di che cosa sono capace ma nullone nagaina prendimi un abito nel guardaroba voglio mettermi qualcosa di molto chic subito signore oggi è una bella giornata mi raccomando voglio il meglio che c'è e su muoviti daniele la mia cravatta dov'è eccola brava brava oggi l'hai recitata benissimo la tua tragedia in un atto uscire o non uscire brava sono mesi o mai che non esco che esco a fare senza soldi verranno i soldi verranno sto per concludere un grosso affare verranno e molti e molti negaina un grosso affare ma chi vuoi che ci creda più ormai è una balla come sempre e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, signor Padini. Di cattivo umore oggi, eh? Buongiorno, signor Padini. Vanno bene? Buongiorno, signor Padini. Avete visto? Tutto è cambiato. La mia vecchia rena è diventata un cinema all'aperto. Rende molto di più così. Signor Velasco, qualcuno mi ha detto che voi potete procurarmi un passaporto. È possibile? Tutto è possibile e tutto è impossibile. Vi do subito un anticipo. È possibile. Fra quanto sarà pronto? Tra quattro giorni. E dove lo ritiro? Qui. Bene. Fra quattro giorni, signor Velasco. Nessuna tenerezza da parte sua. Neanche a letto. C'è una ragione, ma lui non deve saperla. Mi toglierebbe anche quest'ultima gioia. La sua brutalità mi dà piacere. Anche più della tenerezza. Mi pagherebbe come una puttana se avessi i soldi. Ti scandalizza nei miei discorsi, eh. Siediti qui. Massaggiami ancora. Soltanto un poco, signora. Ho molto da fare. Avevo i soldi io quando ci siamo sposati. Ma come ne ha approfittato il signore. E poi, quando sono finiti i soldi, è finito anche l'amore. Non c'è rimasto più niente. La solitudine, nient'altro. Ristare senza soldi e senza amore. Proprio ora che mi sento più donna. Sono problemi che tu non hai. Dimmi, Nagaina. Che cosa pensi dell'amore? T'ho fatto solo una domanda. Fai parlare soltanto a me. Tu non dici mai niente, Lino. Lo sapete che la mia vita non è diversa da quella di tante ragazze come me. E voi la conoscete benissimo, signora Bessi. Ve l'ho raccontata tante volte. Mi piace sentire la tua voce. È l'unica cosa allegra in questa casa. Voi siete troppo buona, signora. Da quella sera, quando mio marito ti portò qui. Tutto è cambiato. Non trovi che Daniele si è cambiato? A me pare di sì. Ha ricominciato ad occuparsi del suo lavoro. Sono contenta di essere stata utile. Sei innamorata? No, signore. Come? Non sei innamorata? No, signore. Non me lo vuoi dire? Me lo nascondi? No. E non sei mai stata innamorata? No, non ancora. Pensi che ci sia una differenza fra fare l'amore e l'amore? Io la penso come voi, signore. È un segreto. Ma dove accidenti hai nascosto il tuo denaro? Sono ormai due mesi che sono qua e che non mi pagate. Beh, è come se tenessi i soldi in banca. Sì, magari. Ma non ve ne preoccupate. Tra poco vi la stagione buona. Posso trovare un lavoro. Come ti pare? A me piacerebbe restare con voi. Perché in questa casa mi sento protetta. E per riconoscenza. E per riconoscenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prima che tu parta ti devo dire una cosa. Ti prego, vieni qui. Ti sto aspettando. Tu parti in auto, Daniele. Non in treno. Certo, lo sai, no? Allora puoi restare ancora un momento. Ti chiedo solo un quarto d'ora. Ti ricordi, Daniele? Una volta quando partivi, avevi un modo particolare per salutarmi. Ti ricordi quel giorno? C'erano fuori i tuoi amici. Ti aspettavano nelle loro auto. Ma tu hai gridato loro una scusa e intanto facevi l'amore con me nascosti dietro la finestra. Te ne sopplico, Daniele. Daniele? Bessie! Beh sì, non posso tardare. Credimi. E poi, poi ormai è tanto tempo che non c'è più niente tra di noi. Lo sai? Così tu non vuoi. Non posso. Com'è strano. Il nostro amore è finito insieme ai soldi. E quando avevamo il denaro, c'era anche l'amore. Ma poi, poi un giorno... Mi è rimasta la solitudine. Ma il mio lungo digiuno deve finire. Basta, non voglio stare sola. Tornerò. Tornerò, vedrai. E con un sacco di soldi. Chi è il più bugiardo di noi tre? Tu, Daniele o io? O declaring, è un uomo così, tu non mi piace. Cuo e il nostro amore è il nostro amore è il nostro amore. Per far 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 far. Forssemi guarda. Che e gli aspetti. Come ho. Buon Natale. Grazie a tutti. 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 L'unico scopo della mia vita ora sei tu. Non chiedo altro che vivere vicino a te, finalmente tranquillo. Megane, tu non devi avere segreti per me. Non ne avrò. Giuramelo. Te l'ho giurato con i miei baci. Non lo hai sentito? Sì, amore. Sì. Oh, signor Lester. Mi dispiace, ma sto chiudendo, come vedete. Un minuto solo, signor Pasini, vi prego. Sto per partire e ho bisogno di denaro. Ma l'altro giorno avete impegnato... Ho bisogno di realizzare di più. Ma è... Sono un vecchio cliente, no? Sono un vecchio cliente, no? Ho qui dentro qualcosa che vi potrà interessare. E va bene, accomodatevi. La cassaforte. Ma, signor Lester, è uno scherzo, vero? Mi sono sicuro, io vi conosco da troppo tempo. Ma, rilassi. Come volete, come volete. Ma, signor Lester, è uno scherzo, vero? La cassaforte. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Voi siete Daniel Lester? Sì. Seguiteci al comando di polizia. Venite. Alla prossima. Riepiloghiamo. Avevate un appuntamento con Velasco? Sì. Motivo? Beh, una possibilità di lavoro. Una possibilità di lavoro da parte di Velasco? Certo. Perché no? Vendere gioielli per conto di Velasco. Sapete, io ho fatto il rappresentante di preziosi. Davvero? Anche di quelli rubati? Come questi che vi abbiamo trovato addosso? Sui gioielli non c'è nessuna indicazione in proposito. Ma bravo. Vi faccio i miei complimenti. Vedo che conservate il vostro spirito. Avete dichiarato di non sapere che Velasco, oltre che un falsario, è un ricettatore? Non solo, ma anche un basista di grossi furti e rapine. Non lo sapevo. Come spiegate la provenienza di questi preziosi? Ve l'ho già detto, non la conosco. Me li ha dati Velasco perché glieli vendessi. Non so altro. Mettetemi a confronto con lui. Per ora Velasco non è disponibile. Che significa questo passaporto falso? Sì, il passaporto l'ho commissionato io a Velasco. Volevo lasciare il paese senza che mia moglie potesse rintracciarmi. La mia vita familiare è sempre stata un inferno. Mia moglie è un'isterica, un'alcolizzata. Potete controllare. Lo sono tutti, vi sarà facile. Voi naturalmente conoscete Pasini, il titolare dell'Agenzia dei Pegni. Lo conoscete, vero? Sì, certo. Lo conosco bene, sono ricorso spesso a lui. Anche recentemente. Volete dire qualche ora fa? No, alcuni giorni fa. È stato rapinato. I due anelli sono una parte del bottino. Ve l'ho già detto, non so niente. Me li ha dati Velasco. Bisogna provarlo. Siete voi che dovete provare il contrario. Allora caliente! Allora caliente! Nagaia, c'è sempre la possibilità di avere quel lavoro? Certo. Ti posso mettere nella lista di Martinez. A che c'è Nagaia? Ti sei innamorata? No, non sono innamorata. Se fossi innamorata sarei allegra. Riderei tutto il giorno. Non hai ancora trovato l'uomo adatto, eh? No. Ma tu procurami quel lavoro. Ti farò un regalo. Oh, non ce n'è bisogno. Con tutto il cuore lo faccio per te. È completamente gratis, te lo giuro. Non ce n'è bisogno. Quanto a Pasini gli hanno sfondato il cranio, ma non è morto. Ha fatto il vostro nome. Non è possibile che Pasini mi accusi, a meno che non sia impazzito. Io non sono un rapinatore. Un sacco di gente può testimoniare sulla mia onestà. E poi basta, per favore, sono stanco. Se Pasini mi accusa, mettetemi a confronto con lui. Non è possibile per ora. Buongiorno. Buongiorno, signora Bessia. Hai fatto tardi. C'era molta gente al mercato. Ci sono delle novità. Ci sono delle novità. Grazie. La polizia è stata qui. Perché? Cercavano il signor Lester? No. Ma cosa dici? Cercavano dei gioielli. Hai mai visto dei gioielli in questa casa? No. Neanch'io, t'assicuro. Da tanto tempo. Da anni. E allora? Allora niente. Che c'è? Perché ti preoccupi? Vedi, non mi preoccupo io. Cercavano dei gioielli rubati. C'è stato un furto. Che ne sai? Danieli t'ha detto qualcosa? No. Ma è assurdo pensare che il signor Lester... Sono contenta che tu stimi mio marito. Ma ora basta. Nazraina, ascoltami. Questo colpo terribile lo sopporteremo unite. Ma quale colpo terribile, signora Bessia? Ora più che mai dobbiamo aiutarci. Dobbiamo restare insieme. Tu non mi lascerai. Lo prometti? Sì, ma dov'è il signor Lester? Oh, piccola cara. Giurami che non mi lascerai mai. E in compenso, io ti dirò tutto. Tutto, eh? Giuramelo. Ve lo giuro. Sì, avete ragione, signor Lester. Faremo i confronti necessari, ma ci sono troppi indizi su di voi. Quindi per il momento vi trattengo in arresto. Stato, Stato. Non ti mischiare. Se parteggi per un gruppo, ti metti contro un altro. Perciò se pensi di uscire presto, come mi hai detto, è meglio che resti isolato. Grazie, Francis. Io me ne frego. Tanto mi hanno ridotto la pena, quindi... Ma se non avessi ottenuto la scarcerazione, sarei uscito lo stesso. Avevo un piano fantastico per tagliare la corda. Saresti scappato dalla cucina? Ma no. Dalla cucina è impossibile. Beh, visto che lavori lì... Peccato. Sarebbe stato un piano davvero perfetto. È vero che hai fatto un bottino di un milione di pezzi? E dove hai nascosto la merce, eh? Il malloppo... Sono stati i tuoi copici. Ma perché non parli? Datemi a sentire, tu e tre. Io non ho fatto nessun colpo uscire o presto di chi è con le mani pulite perché sono innocente. Non sono un delinquente. Ehi, Lester. C'è una visita per te. Daniele. Magari. Che cosa è successo? Niente. Un equivoco. Ma dimmi, tu come stai? Io voglio sapere, Daniele. Sei incolpato di cose gravi? No, Nagaina, io non c'entro. Sì, è vero, sono stato da Pasini, ma per affari. Mi hanno arrestato dopo, quando sono andato da Velasco per il passaporto. Sai, quello con un altro nome. Ma io quel passaporto non l'ho mai avuto nelle mani. Menomale. Mi credi? Sì. Sì, ti credo. Nagaina, sei l'unica ragione che io ho per sopravvivere. Mi ami. Certo. Senti, Daniele, io a casa tua non resisto più. Me ne vado. Dove? Io resto qui ancora pochi giorni, forse poche ore. Il mio avvocato è molto bravo, mi farà uscire. A casa almeno sei al sicuro. O non vuoi aspettarmi? Certo che ti aspetto, ma Bessie mi tortura tutto il giorno. Dove andresti? In una piantagione. Ho già chiesto a una mia amica di farmi mettere nella lista. Stai tranquillo, sarò trattata bene. Sì, forse è meglio. Così quando esco potremmo ricostruire il nostro piano. Dammi tutte le indicazioni precise, perché io posso ritrovarti rapidamente. Sì, Daniele. Nagaina! Nagaina! Sempre cantando me morì, solo Francisca di Occhero. Sempre cantando me morì, solo Francisca di Occhero. Io mi chiamo Teresita, e tu? Io mi chiamo Nagaina. È la prima volta che lavoro qui. Ciao. 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 Ehi cuoco, oggi la sbobba era anche peggiore del solito Protesta con lo chef, oppure cambial bene Beh, almeno da quando c'è Francis in cucina non abbiamo più trovato scarafaggi nella minestra Vero ragazzi? Non te ne vantare troppo, era l'unica carne che ci toccava Ora mangeremo solo per tutti Proprio così Ti fanno sapere che col Pasini sta meglio Se quello guarisce parla, sei fregato Ma chi è che me lo manda a dire? È una notizia di radiocarcere Forse hai un amico, oppure è il tuo avvocato No, ne dubito, non è così sveglio Questa è l'ultima notte che passo qui Beato te, che farai fuori? Mi arrangerò Francis, quel tuo piano di evasione, è sempre valido? Certo, ma non potrò utilizzarlo Me lo vendi? Cosa? Ti ho chiesto se me lo vendi Non mi aspettavo che me ne parlassi E chi ci pensava che il mio piano di evasione si potesse vendere? Dei, quanto me lo paghi? Ti farò concludere il più grosso affare della tua vita Bene, ne ho proprio bisogno Sai, senza saperlo, avevo già cominciato a darmi da fare per te Da domani, in cucina ci lavori tu Il capo guardiano che sovrintende al servizio è già d'accordo Ma io non capisco niente di cucina Ma non ti preoccupare, neanch'io Eppure ho resistito diversi mesi, no? Tu? Quei poveracci hanno resistito Ma ti spiego tutto Non devi fare nessun errore Intesi? Venerdì è la giornata giusta Venerdì? Fuori ci sarò io ad aspettarti Ma andiamo per ordine Prima di tutto Voglio sapere come mi pagherai Ehi, ciao Non lo vedi che sono una donna? No Ah, no? Brutto finocchio Grazie a tutti E' vera La ferita Con ce n'erai Ma Cielo, scusa Mi dispiace Mi dispiace molto Accidenti Ramon Pranzi Ciao Come stai? Come al solito Quanto vuoi per questa? 70.000 peso Troppo Te le faccio vedere delle altre Vieni Quanto costa? Solo 40.000 No E' cara Questa allora E' un affare Mi contento di 15.000 Più di 10 non te ne do E va bene Giusto perché sei un amico Tieni Ti regalo questo Un ricordo di prigione Grazie Dì Che ore sono? Sono quasi le 11 Ecco tra poco ci siamo Il momento si sta avvicinando Non devi dimenticare niente Daniel Mentre riempiono il pentolone Tu sta calmo Capito? Mi raccomando Daniel Sta calmo Calmo Il pentolone è quasi pieno 14, 15 E poi è finito Vai Muoviti Oggi è venerdì Fai in modo che la minestra sia particolarmente saporita E non dimenticare la cannuccia Come ogni venerdì Passa il carrello della disinfezione I guardiani l'hanno già controllato Perché è in uscita? Puoi stare tranquillo Che la litigata te l'organizzo come si deve Il carrello lo porta Il cugino del cognato del fratello di un mio amico Uno che lavora nel mio ramo 우리 chiara Lo vedi che hai detto Despegare il santo Fuera tutto Fuera tutto Fuera tutto Fuera tutto Fuera tutto Fuera tutto Oggi è buona la minestra, sa di carne, ma se è venerdì Arrivato alla lavanderia il più è fatto Troverai perfino gli indumenti per cambiarti A questo punto sei libero, Daniel Grazie Francis, Francis Cos'è? T'hanno sparato? Ma deve essere rotta, mi fa un male cane Com'è successo? Dalla finestra giù, non mi avevi detto che era così alto Se te l'avessi detto, avrei perso il mio affare Comunque, ti sono grato lo stesso Andiamo Ma ci siamo Andiamo 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 Ora riposati E non pensare d'altro Là c'è dell'acqua Con me guadagnerai un sacco di soldi Stupida La donna nelle piantagioni è trattata come un animale Invece è fatta solo per l'amore Ehi bellezza Salve, ho una proposta da tanti Perché stai qui a sgobbare? A che ti serve? Quando sarai vecchia e grassa te ne pentirai La mia proposta vale anche per te Ehi, vuoi venire con noi? Guadagnerai un sacco di soldi Stanca la gaina Un po' Presto ti abituerai Non ce la faccio Ancora non ce la faccio La febbre è diminuita Allora se sei d'accordo io me ne vado Beh, certo Hai fatto la tua parte e adesso vuoi che io faccia la mia? Beh, se l'ha detto metà a metà, no? Francis Devo chiederti un altro favore Quale? Mi secca dirtelo ma Vedi se non fosse per la gamba Me la caverei certo da solo E non te ne avrei neanche parlato Perché certe cose un uomo Deve tenersele Per sé Tutto quello che ho fatto L'ho fatto per una ragazza Non ridere! Scusami È una cosa importante per me Molto importante Sì, capisco Ma poi può capitare a tutti Ho bisogno di lei Francis Devi andare a prenderla e portarla qui Dopo avrai la parte che ti spetta Dopo, eh? Insomma Non ti fidi di me E se io volessi prima la mia parte? Non te la darei, Francis E va bene E dove la trovo questa perla di ragazza? E che non so Non ti fidi di me PERO vstan Ma poi va bene E che non so Ma qui E che non so E che non dühren E che non scumbi E che alto melt E che non so Ma ballare jazz A costumes Le dobbia Ha diverso Luz E che non Loander E che non E che non blo E che non so Ma qui E che non Basta, caglianse! Vi occorre una ragazza in magazzino? Tu! Grazie, signore. Ma al chiuso ci sto male. Pensaci bene. È un lavoro comodo e con una paga doppia. Il denaro non mi interessa. Molto obbligato, signor Martinez. Accetto io la vostra offerta. Bene. Vieni questa sera. Facciamo davvero... No, ferme, ferme! Vieni. Vieni. Grazie a tutti! Lascia, la prendo io! Ehi! Non pensavo che mi avresti aspettata Tu non ho niente da fare, sali! No, grazie Ti porto alla piantagione Non ci torno più alla piantagione Come sta la tua compagna? La stanno operando per ricucirla Ha il ventre squarciato Porci, porci, tutti della stessa razza E quel maledetto Martinez Se la passerà liscia ancora una volta Dai, non pensarci più adesso Tanto non puoi farci niente Vieni Il tuo vestito è macchiato di sangue Te ne compro io uno nuovo Vuoi? No, grazie Ve lo compro da sola Muchas gracias, señor Salve Dove abiti? Dove si va? Ma non lo so, dillo tu Non lo so neanch'io Ma davvero non hai niente da fare? No, sono in vacanza Anzi, questo è il mio ultimo giorno di vacanza All'ultimo vista ho pensato che mi sarebbe piaciuto passarlo con una ragazza come te Davvero? Ho tanta fame Buon segno Vuoi? Sai, mi piacerebbe tanto che tu stessi sempre con me Ehi, hai sentito quello che ti ho detto? Ho sentito No, tu non puoi capire Fino a ieri non avrei mai potuto parlare così chiaramente con un uomo Ma adesso è tutto diverso Beh, devo andarmene Ho l'impegno alla piantagione di Martinez Che impegno? Che vai a fare là, me lo dice? Vado a cercare una ragazza Una ragazza bellissima Ah, sì? Fa quello che vuoi Ma dai, è per un mio amico Ho promesso di portargliela Perché non se la cerca da solo? Perché non può, è malato Ma è veramente così bella come hai detto? Così dice il mio amico Io non l'ho mai vista Si chiama Nagaina Beh Cos'altro c'è adesso? Hai visto passare un fantasma per caso? Questo tuo amico Lavora con te? Beh, sì Siamo nello stesso ramo Commercio E come si chiama? Gomez Ramon Gomez Ehi Dove vai? Ma sei impazzita? Vieni qui Che cavolo ti hai preso? Sei un bugiardo Quel tuo amico Come hai detto che si chiama Ramon Gomez? Accidenti, che stronzo che sono Avrei dovuto immaginarlo Lavorando nella stessa piantagione la conosci questa Nagaina, è logico Quindi hai ricevuto le sue confidenze E sapevi che era l'amica di Daniel Lester? Sì, lo sapevo Beh, sono stato più cretino che bugiardo E' andata così Vai avanti Ma cos'altro vuoi che ti racconti? Ne sai più di me? Come lo hai conosciuto? Perché hai detto che lavora insieme a te nel commercio? Va bene, è un'altra bugia Ma conseguente alla prima Daniel Lester era in carcere Ed è evaso È naturale Sai anche questo E allora adesso lo capisci perché gli ho affibbiato il nome di Gomez La polizia lo ricerca E io devo essere molto prudente Ma insomma, vogliamo finirla Perché dobbiamo gastarci il sangue con questa storia? Sì, perché lo tieni mi accanto a te Dimmi, come fai tu a sapere dove è nascosto Daniel Lester? Chi sei? Il mio vero nome è Francis Ero marinaio Quando arrivai in questo paese mi mise a fare un altro mestiere Quale? Contrabbando Qui lo fanno tutti per vivere Niente di male Se non ci fosse sempre il pericolo di finire in galera Ci sono finito Per più di un anno Sono uscito una settimana È in carcere, vero, che hai conosciuto Daniel Lester? Sì Ho fatto amicizia con lui Mi faceva pena Perché? È innocente? No La rapina l'ha fatta davvero Te lo ha confessato lui? Sì Ve ne ha anche spiegato le ragioni Voleva rifarsi una vita con quella ragazza Quando l'ho rivisto fuori mi ha mandato alla piantagione per cercarla L'ama come un disperato Ma lei è innamorata di lui? Sì, certo, nei primi tempi lo aveva creduto Ma poi quando lui finì in carcere Lei ha avuto tempo di riflettere Ha avuto la certezza di non esserlo Quando per la prima volta nella sua vita Si è innamorata davvero Accidenti Ma adesso come faccio a portarla a Daniel? Che razza di puttana Non lo è Non lo è Ho sempre dovuto lottare Fin da piccola per non diventarlo Sì, sì, ho capito Ma io gliela porto lo stesso A costo di trascinarla per i capelli Provaci, Francis Io non voglio più rivederlo Con lui ho chiuso Amo te, Francis A costo di trascinarla per i capelli Con lui è inserdi Signor Notaio Sì, sì, la casa è intestata a voi So che l'avete acquistata con i vostri soldi Però è ipotecata, non ne caverete niente Me l'aspettavo Iniziative di mio marito Per questo vi ho portato a far vedere queste altre carte Avete ancora la proprietà di Kemana? Com'è possibile? Daniel mi fece firmare una procura per venderla Poi mi disse di averla ceduta per pochi soldi Sono passati tanti anni E dove lo trovava un compratore? È una zona selvaggia Ah, sì, io e mio marito ci andavamo a caccia Eravamo due cacciatori appassionati Kemana Ci sono Kemana Francis Non voglio andare da Daniel Perché? Torniamo indietro, ti prego Ho paura Ma di chi hai paura? Sono convinto che Daniel saprà capire Sarebbe veramente una vigliaccheria lasciarlo attormentarsi nel dubbio Lui deve sapere come stanno le cose E devi essere tu Soltanto tu a dirgli tutto Onestamente Vedrai che capirà Va bene Farò come dici tu Ma non subito Ho bisogno di sentirmi più forte D'accordo Vado a dirgli che non ti ho ancora trovata Senti Ma l'hai cercata davvero? Certo Sono rimasto là finché non ho avuto informazioni sicure In giornata sarei andato nell'altra piantagione dove lavora adesso Secondo quella sua amica Ma prima ho voluto avvertirti di ritardo Sei un amico Francis Sai Daniel Mi dispiace farti del male Credi No No stringi Stringi pure Così potrò camminare prima Ehi Francis È un anticipo Sembrava un vero rapimento È una cerimonia all'antica Non pensavo che si facessero ancora La donna è sempre una preda Anche quando si sposa Beh Non sempre Esiste un'eccezione E quale? Quando due si vogliono bene veramente Sì Hai ragione Si è uguale soltanto quando c'è un vero amore Non si è uguale still Grazie a tutti. Grazie a tutti. So che cosa pensi. So che cosa pensi. So che cosa pensi. So che cosa pensi. Daniele. Nagaina. Nagaina. Finalmente. Non ci speravo più. Stai bene, Daniele? Sì, certo. Guarda, posso camminare. Vedi? È Francis. È là fuori. Ti ha raccontato tutto. È stato terribile, sai. Ma come vedi ce l'ho fatta. Anzi, ce l'abbiamo fatta. Cos'è? Paura? No. Stai tranquilla. Qui non ci troverà nessuno. Siamo sicuro. Ma non ci staremo per molto. Solo qualche giorno e poi ce ne andremo per sempre. No, Daniele, ascolta. Ti prego, Daniele, lasciami, lasciami andare. Ti prego, Daniele. Io non volevo. Non so come dirtelo. Io non verrò con te. Lo capisci? Nagaina. Francis! Francis! Lasciala. Perché l'hai chiamato? Cosa vuoi da lui? Cos'è successo? Parla! Lasciala stare. È così. È così! Io mi ero fidato di te, Francis. Avevo creduto nella tua amicizia. Daniele, mi dispiace, ma la colpa non è di nessuno. Devi credermi. Io non sapevo come faccio a spiegarti. Ci siamo innamorati senza sapere. Daniele, non è stato un tradimento. E allora? Perché me l'hai riportata? Perché? Perché? Speravo che comprendessi. E facessi una ragione di quanto è successo. Farmi una ragione? Come? Era lei l'unica ragione della mia vita. Tu me l'hai presa, rubata. Francis non ha rubato niente. Anche se non lo avessi incontrato, io non sarei tornata da te in ogni caso. Non è vero. Non è vero. Non è vero! Quando ero in prigione, mi hai giurato che mi avresti aspettato. Anche tu mi avevi giurato di essere innocente. E non era vero. Non è vero. Io non sono come te. Io mantengo i patti. Prendi pure la tua parte. E andatevene. Per questo hai insistito tanto a farmi venire qui. Non rinuncio alla mia parte. Se tocchi uno solo di quei gioielli non mi vedrai mai più. e gioielli non mi vedrai mai più. Oh! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non fare pazie, no! La polizia. Passiamo per la palude. 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 Grazie a tutti.